Oggi sabato 8 dicembre ci ritroviamo qui in via del Favarone nel quartiere di Monteluce davanti alloggi Ater. Ricordiamo alloggi Ater che hanno goduto un finanziamento regionale per l'edilizia popolare destinata alle famiglie che verrà presto trasformato in centro d'accoglienza. Mentre tutto è andato in sordina, mentre tutti tacciono, mentre tutti i partiti di centrodestra che avevano cavalcato la protesta in merito a questa struttura si sono dimenticati, Casapando si dimentica. Casapando quello che sta accadendo in questi appartamenti, possiamo vedere che gli appartamenti sono del tutto terminati. Vediamo che ci stanno già i bandoni destinati ai rifiuti, gli appartamenti sono già provvisti di immobilio, di frigoriferi e di impianti di condizionamento, quindi significa che presto Perugia avrà il suo mega centro d'accoglienza nuovo di Zecca che sarà una nuova bomba sociale per la città e per il quartiere di Monteluce. Quindi ancora una volta basta al business dell'accoglienza, le edilizie popolari devono essere destinate alle famiglie, alle coppie, alle giovani coppie e a padri separati e non all'accoglienza di immigrati clandestini nel territorio.